Buonasera dalla redazione di Roma Daily News e bentornati all'appuntamento con l'informazione della capitale. Partiamo dalla cronaca grave incidente sulla via Cassia dove un giovane romano di 22 anni Vittorio Trombetti ha perso la vita dopo lo scontro fra il proprio scooter ed un'automobile. L'impatto mortale all'altezza del civico 280 della strada in zona Camilluccia. Inutile il trasporto d'urgenza all'ospedale Villa San Pietro, per ragazzo non c'è stato nulla da fare. A lavoro la polizia locale per cercare di costruire la dinamica dell'incidente. Ancora cronaca Santini e Quadretti di Papa Francesco ma tutti senza certificazioni. Così gli uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato 340.000 souvenir nel rione Borgo. Tutti stipati in un magazzino in cui i proprietari di origine cinese sono stati denunciati. Gli oggetti erano destinati per rifornire a fitta rete di venditori ambulanti abusivi per il giubileo straordinario della misericordia. Chiudiamo con lo spettacolo Il Cinema. Si svolge al Teatro Palladium di Roma dal 2 all'8 maggio l'undicesima edizione del Roma Treffin Festival. Ideato e diretto da Vito Zagario, quest'anno cinema, teatro, musica e video si intrecciano in un festival al tento alle contaminazioni. Sguardi retrospettivi e sguardi al futuro si sposano nell'ambizione di fare del Roma Treffin Festival, un evento importante della cultura italiana. Era questa l'ultima notizia per oggi. A tutti voi il più cordiale buonasera.